Ciao a tutti, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Cominciamo con sempre il nostro scioglimento molto molto veloce e molto facile. Prendiamo le nostre mani, le mettiamo a pugno e ci facciamo un micro massaggio nel collo. In questo modo andremo a rilassare i muscoli. Cerchiamo di mollare il più possibile respirando lentamente, anche sulle spalle. Facciamo ora sempre i soliti movimenti per il collo. E due cerchi a destra e due cerchi a sinistra. Molto bene, possiamo cominciare con l'esercizio della giornata. Vi propongo un'altra consonante che è la V, la V di vai. Mi faccio sentire l'esercizio e poi partiamo. Molto semplice, cercate di mantenere la mandibola molto rilassata e di tenere un respiro sempre costante nell'emissione vocale. Pronti? Partiamo. 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 Grazie a tutti. Scendiamo. 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 Bene, grazie a tutti per l'attenzione. Vi aspetto alla prossima puntata. Scendiamo. Scendiamo. Scendiamo.